Buongiorno, in questa lezione voglio parlarvi di uno dei più importanti e più complessi argomenti dell'economia aziendale, cioè le scritture di assestamento. In questa prima lezione noi non scenderemo nel dettaglio di quelle che sono le diverse tipologie di scritture di assestamento, ma cercheremo di capire come si inquadrano le scritture di assestamento all'interno della vita dell'azienda. In particolar modo il nostro obiettivo è capire come si passa dai valori di conto ai valori del bilancio di esercizio. Prima di tutto dobbiamo appunto chiederci cosa sono i valori di conto. I valori di conto sono i saldi dei mastri delle operazioni che l'azienda ha rilevato nel corso del periodo amministrativo. Vi ricordo che il periodo amministrativo è l'arco di tempo compreso tra l'1.1 e il 31.12, mentre quando parliamo di esercizio facciamo riferimento al complesso delle operazioni svolte all'interno di quel periodo amministrativo. attenti bene che quindi quando parliamo di valori di conto e quindi di contabilità facciamo quindi riferimento alle variazioni registrate durante l'esercizio in base ai fatti che mano a mano si sono verificati finanziariamente. Quindi il primo concetto che dobbiamo tenere bene a mente per capire tutta la lezione è proprio manifestazione finanziaria. Una volta capito e definito cosa sono appunto i valori contabili passiamo al secondo step, cioè una volta che abbiamo calcolato i saldi dei valori di tutti i mastri possiamo andare a redigere la situazione contabile prebilancio e l'inventario di funzionamento. Che cos'è l'inventario di funzionamento? L'inventario di esercizio è il termine che definisce sia l'insieme delle operazioni con le quali si determina il patrimonio esistente in un determinato momento, sia il prospetto, quindi il documento che mette in evidenza la composizione del patrimonio stesso. Quindi fare l'inventario significa fare un'analisi approfondita degli elementi che compongono l'azienda, sia positivi le attività ma anche le passività, nonché i costi e i ricavi. E inoltre significa andare ad analizzare tutti i contratti che sono in essere in quel determinato momento, cioè al 31 12. È proprio a questo punto che entrano in gioco le scritture di assestamento. Le scritture di assestamento sono tutte quelle scritture che ci permettono di passare dai valori contabili ai valori di bilancio perché permettono di far competere ad ogni esercizio soltanto i costi e i ricavi di competenza di quell'esercizio. E qui altro termine fondamentale, competenza economica. Dedicheremo alla competenza economica un'altra lezione, però è necessario comprendere perfettamente che vi è una distinzione tra manifestazione finanziaria e manifestazione economica di costi e di ricavi e che le scritture di assestamento hanno ragione di esistere proprio perché esiste una differenza temporale tra il momento della manifestazione finanziaria, cioè le entrate e le uscite e il momento della manifestazione economica, cioè dei costi e dei ricavi. Una volta che abbiamo redatto tutte le scritture di assestamento sarà quindi possibile ottenere i valori di bilancio e redigere quindi il bilancio di esercizio. In questa sede è sufficiente comprendere che il bilancio di esercizio è quel documento di derivazione contabile, perché proprio deriva dai valori di conto, che fornisce informazioni e comunica risultati dell'azienda. In particolar modo, quali sono le informazioni che il bilancio di esercizio sarà in grado di darci? Prima di tutto sarà in grado di dirci il risultato economico e quindi se l'azienda ha conseguito un utile o viceversa ha incontrato una perdita. Nel primo caso i ricavi di competenza saranno più grandi dei costi di competenza, viceversa nel caso della perdita. L'altra essenziale informazione che sarà in grado di darmi il bilancio di esercizio è il patrimonio di funzionamento, cioè la composizione degli impieghi e delle fonti dell'azienda in corrispondenza del 31-12, cioè di quegli impieghi e delle fonti che hanno permesso all'azienda di determinare il reddito d'esercizio.